40 candeline per la sezione gelese dell'Aias, l'associazione che accoglie ed eroga prestazioni per la tutela di pazienti con deficit fisici, psichici e sensoriali. Nata nel 1976, opera a Gela in Contra da Manfria, offrendo prestazioni e servizi a soggetti portatori di handicap. Il presidente Anna Maria Longo. Festeggeremo quattro persone in modo particolare, perché sono quelli che fin dall'inizio operano nell'Aias. Dall'apertura sarà una cosa commovente, specialmente per me, che c'è una persona a me troppo cara. Parleremo pure di persone scomparse che meritano il dottore Battaglia, il primo presidente si può dire. La cerimonia di oggi è stata condotta dalla giornalista Rosa Battaglia, presenti le autorità istituzionari. C'era anche Francesco L'ho trovato, presidente d'onore Aias. Io ho l'onore di essere stato uno dei primi ad avviare questa attività, godo della stima di tutta l'Aias nazionale. Sono veramente orgoglioso per ciò che ho fatto. Non è merito mio, è merito sa di chi del Padre Terno che mi ha dato la testa che ho. Altrimenti non avrei saputo fare niente. È stato necessario avere anche con la classe politica intelligente degli anni Ottanta, intelligente degli anni Ottanta, avere l'umiltà, avere la capacità non tanto di persuasione, ma quando di chiarire qual era il problema della disabilità, l'emarginazione nostra, dei nostri figli e noi genitori e quindi fare un riscatto, un riscatto in una popolazione italiana che dalle sue radici cristiane non può che essere orgogliosa nel momento in cui si attiva per il prossimo, si attiva a riscattare quelle che sono le marginazioni. Il Vescovo di Piazza Merina, Monsignor Rosario Gisana. È un'associazione molto importante perché mostra una grande sensibilità nei confronti delle persone che oggi noi definiamo diversamente abili perché effettivamente sono così. Sono le persone che hanno delle potenzialità eccezionali, soprattutto a livello di cuore e che ovviamente noi tutti dovremmo cercare di sostenere e di cui anche fruire perché la loro amicizia, la loro sensibilità, la loro vicinanza è per noi importante in quanto aiuta a poter anche da parte nostra relativizzare tante cose che purtroppo spesso siamo portati ad assolutizzare e magari in maniera anche piuttosto esagerata. Per cui credo che questa attività, questa iniziativa sia davvero estremamente importante. E l'Aias, l'Aias è davvero questa associazione che aiuta, come dire, io la vedrei come una sorta di memoriale continuo di una sensibilità che noi dovremmo sempre tenere alta nei confronti di questi nostri amici che sono davvero eccezionali.